Tenga presente che lei mi ha lasciato il curriculum, spero avere una risposta. Le faremo sapere, d'accordo? Arrivederci. Direttore, chiedo scusa. Qual è il problema? Perché lei magari nel curriculum uno, magari alla fine non lo legge, allora è giusto che glielo dico io. Io posso lavorare in sala, posso lavorare anche a fare il lavapiatti, voglio dire, non è che l'importante perché hanno detto vai da lui che sicuramente almeno per la stagione lo trovi un posto. In questo momento abbiamo tutto al completo, va bene? Sfortuna È stato un piacere, le faremo sapere. Quando uno sente le faremo sapere, cioè almeno quando? Vabbè, allora se facciamo una cosa, si faccia risentire... Almeno le idee più chiare. Allora si faccia risentire fra un anno, va bene? Fra un anno? Fra un anno, va bene. Vabbè, a che ora? A che ora? Anche per essere preciso vorrei che lei stia aspettando qui tra un anno e io. A precisi non ci vuole. A mattino o pomeriggio?